Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video! Video che sto facendo contro ogni mia volontà! Vorrei specificarla questa cosa, ma assolutamente necessario. Quindi questo è uno dei miei video motivazionali! Per me, non per voi. Cioè, per voi, alla fine, quando io faccio questi video motivazionali, poi qualcuno mi scrive sempre Eh, ma hai dato la voglia pure a me di fare sta cosa. Non so bene come fa a venire la voglia di fare sta cosa, perché io non ho voglia di fare questa cosa. Però, raga, è necessario. È necessario, perché, come sapete, siamo quasi in partenza. Cioè, vedo la fine, vedo l'obiettivo. Manca veramente poco, manca meno di due settimane, quindi necessariamente arriverà quel giorno in cui dovrò fare la valigia. Ok? Non vedo l'ora, la farei anche oggi. Potrei farla oggi, secondo voi? Adesso vi mostro perché non potrei. Ecco, questo è il mio armadio in questo momento. Perché questa YouTube è verità. E' inutile che io vi faccia vedere quegli armadi pettinati, tutti con le cose in ordine alfabetico, tutto messo, sistemato e preciso. Guardate, le mie antene anche si chiudono. Non si chiude più. Non si chiude più. È inutile che fanno vedere tutte quelle cabine armadio di 75 metri quadrati. Noi qui abitiamo in meno di 50 metri quadrati, quindi figuratevi, io non so più dove metterli vestiti. Tra l'altro, questo in salotto che vedete sempre, anche nei video, è il mio armadio. Ci sono le mie cose. Luca ha l'armadio della camera, che è comunque un armadio a quattro ante, dove oltre alle cose di Luca ci sono i giacchetti di Luca, quelli che poi insieme, perché quelli che insieme stanno qui in salotto. Poi ci sono anche le lenzuola, gli asciugamani, le coperte, tutte queste cose qui, perché non saprei dove altro mettile. E poi ci sono i vestiti di Luca. Questo comporta, visto che Luca ha più vestiti di me, come sapete, che ogni volta che Luca apre l'armadio, piovono parolacce in casa, perché non trova quello che cerca. Questa è l'unica soluzione che siamo riusciti a trovare per avere dello spazio per mettere le nostre cose. Quando ci siamo trasferiti qua, c'avamo solo l'armadio della camera. Vi lascio immaginare. Era un'esperienza terrificante. Alla fine abbiamo preso quest'altro armadio e quindi dividendoci io di qua, lui di là. Però quello che succede ogni volta è questo. Non è passato tanto tempo da quando ho sistemato. E ho tolto anche un sacco di roba. Io quest'anno, quando ho fatto il cambio di stagione, e c'è il video, io ho tolto un sacco di roba. Cioè ho fatto bustoni di cose. Però un po' faccio videocollaborazione con le aziende, quindi sapete che mi mandano spesso dei vestiti. Io cerco di, se entra qualcosa, far uscire qualcosa, però poi alla fine succede questo. Perché poi le cose stanno ammucchiate. Quelle che vanno dietro manco le vedo. Di conseguenza, credo che sia arrivato il momento di fare un po' un altro decluttering. Cioè proprio di togliere altre cose, perché ormai siamo arrivati quasi a marzo. Se quello che c'è nell'armadio, alcune cose che stanno nell'armadio, quest'anno non le ho messe, probabilmente è arrivato il momento di farle andare verso altri porti. per rimanere in tema di crociera. Cioè sicuramente ci sono cose che staranno meglio alle mie amiche o a qualcun altro, piuttosto che dentro l'armadio o dietro e manca le vedo. Quindi adesso vediamo un po', tiriamo fuori un po' tutto, perché io credo che l'unico modo per riuscire a capirci qualcosa è estrarre tutto quello che c'è qua dentro. Cioè così non si capisce niente. Così è solo un mucchio di roba ammucchiata. Fatemi un favore. Se mentre metto a posto voi individuate qualcosa che mi dite oh quello portatelo, quello portatelo, ditemelo, che così ragiono su cosa portare, perché non ho capito bene, nel senso, cioè, poi faremo il video della valigia e la facciamo insieme. E faremo soprattutto in questo video, non vi farò vedere che lì sotto c'ho uno scatolo, di quelle grande, pieno di vestiti da sera, diciamo, ma di quello faremo un video a parte, li lascio nelle buste, tanto ognuno c'ha la sua busta, li lascio nelle buste e poi faremo un video con i sondaggi su Instagram. Quindi seguitemi su Instagram la settimana prossima, io mi provo i vestiti e vi faccio i sondaggi su quelli dove sono indecisa su quale portare, così magari mi aiutate a scegliere il vestito su Instagram che è più diretto e poi uscirà il video ovviamente su YouTube. Mentre per il resto, non ho capito bene, cioè, di giorno sulla nave dovrebbe fare caldo quando stai dentro la nave. Poi però se esci sul ponte è inverno comunque, cioè, non è che fa caldo. Però è pure vero che andiamo al sud, quindi andiamo a Barcellona, Malta, sono tutti posti, Palermo, dovrebbero essere posti abbastanza caldi. Quindi, non so bene cosa portarmi. Cioè, nel senso, il maglione a collo alto, maniche lunghe, di lana, forse meglio a strati, meglio a cipolla, non lo so. Vabbè, comunque, se vedete qualcosa che secondo voi magari siete stati in crociera e mi devo portare, me lo dite. Io direi di tirare fuori tutto, magari un piano alla volta, anche perché non c'ho posto per appoggiare la roba, che il divano è occupato da 18 cani. E poi vediamo come rimetterla a posto e soprattutto cosa togliere. Comincio a estrarre. Ed ecco a voi il disagio. Questo, questa montagna, che è indefinita di cose, era su questo ripiano. Quindi, in realtà, c'è rimasto anche questo di ripiano. Vabbè, prima pieghiamo questi e capiamo cosa tenere, cosa dare via, perché secondo me non posso tenere tutte queste cose. Alcune non le ho neanche mai viste quest'anno. Già di base io poi non stiro, no? Perché quello che stira in casa nostra è Luca, non sono io. Quindi già di base non stiro. Quando la roba si ammucchia dentro all'armadio, finisce tutta ciancicata, quindi poi non me la metto, perché non è che io prendo e stiro la maglietta e quindi semplicemente non me le metto più. Comunque questa non la darò mai via, perché è la maglietta più bella del mondo e ogni volta mi chiedete dove l'ho presa e la risposta è Telly Welly, ma un sacco di tempo fa, quindi non credo che la troverete più, però è bellissima. Forse la trovate su Vinted, perché di solito le cose tipo particolari così ma di vecchie collezioni si trovano su Vinted. Però le magliette stanno a un altro ripiano, quindi questa la metteremo da parte. Allora, questo maglione che ho preso durante una collaborazione, io non l'ho mai messo. Non so neanche se mi sta bene, ma cioè sì, carino e carino, però il problema è che è di questo materiale qui tipo retina e voi capite che con un chihuahua avere un maglione del genere però veramente è un sacrilegio io non l'ho mai messo. Diciamo che gli diamo una chance, è comunque più primaverile. Ecco, potrebbe essere una cosa da portare in crociera. Con questo invece per quanto io lo ami, cioè è veramente carino, non trovo mai occasione di metterlo. Ah, perché è veramente corto e è vero che non ho più i treppetti laterali quanto meno ce ne ho di meno, non ce ne ho più. Sta a fare splendida, ieri. Ce ne ho di meno, però è veramente corto ma soprattutto che non sarebbe manco quello il problema perché ce l'ho pantaloni a vita alta e il problema è qua dietro. Allora, se io mi metto un maglione vuol dire che sotto non ci devo mettere neanche la cannottiera con questo, cioè mi devo mettere solo il maglione. Ma io ho una certa età, io so freddo, non lo posso mettere senza niente sotto. Quest'anno non me lo so mai messo. Me lo so messo un paio di volte l'anno scorso poi non l'ho più messo quindi io direi che questo lo leviamo. Questo invece me lo metto spesso anche questo preso su Cap C, una collaborazione di un po' di tempo fa però questo devo dire che l'ho messo spesso penso anche da poco perché tutto sono cicato ok no, questo lo tengo questo pure se è lo stesso ma credo che fosse della stessa collezione di quell'altro però questo lo tengo mi piace questo qua è piuttosto vecchio lo ha regalato Caterina e ce l'ho pure in un altro colore e mi piace ma l'ho perso all'interno dell'armanio che l'ho mai messo vai eppure è carino questo lo tengo questo c'ha il cartellino ancora me l'ha regalato Luca per Natale è quello di Barbie della collezione di Zuiki e io l'altro giorno me lo so comprato anche in rosa ma l'ho perso già dove sarà non lo so vabbè comunque questo c'ha ancora il cartellino io penso che me lo porterò in crociera così come sta ecco forse pure questo mi potrei portare in crociera perché questo c'ha diritto i bottoncini quindi se ci metti una magliettina sotto questo è carino è un amore poi spoiler credo di cambiare i capelli di ritornare quella che ero quindi questo ci potrebbe stare anche bene se lo teniamo questo non mi fa impazzire effettivamente l'avevo presa all'outlet pagato pure pochissimo non è eccezionale ma è l'unico maglione rosso che io posseggo credo e quindi lo tengo per il semplice fatto che se devo fare un video dove mi vesto di rosso è l'unica cosa rossa che ho nell'armadio questo che è? non lo so questo è un maglione bianco candido secondo me questo me l'ha portato mia madre che gliel'ha dato qualche amica sua non ha etichette è una L tra l'altro è di Roy forse non l'ho mai messo sì leviamolo non l'ho mai messo quindi questo pure carino ma ho di meglio per cui sempre gli archihuahua carino perché c'ha questo dettaglio dietro la schiena così però l'avrò messo una volta forse l'anno scorso quest'anno penso di non averlo mai messo rica sarò crudele devo essere crudele devo questo non l'ho mai messo però mi piace tanto e lo metterò non lo so mi piace tanto questo tida del gilet mi piace tanto poi però alla fine mi metto mai perché già già devo scegliere maglione a mattina vado in crisi se devo scegliere maglione a camicia siamo rovinati allora questo se ve lo ricordate per gli affezionatissimi l'ho presi a un mercatino dell'usato che facevano a Elce però delle persone normali che andavano a fare il mercatino e questa signora si vendeva questo maglione a 2 euro e io l'ho comprato è originale ha le maniche lunghissime perché evidentemente è stato lavato male quindi addosso la taglia è giusta ma le maniche le devi rigirare la manica mi arriva qua però mi piace è bello è caldo è carino pure il modello quindi penso che lo terrò perché alla fine le maniche hanno sta cosa qui così e le rigiro e le porto così venga questo lo vorrei dare via ve lo dico onestamente ogni anno dico lo do via poi alla fine ogni anno non riesco a darlo via perché ci sono affezionata ce l'ho veramente da tantissimi anni veramente da tantissimi anni e non lo so pure nei video è carino quando me lo metto me lo dite sempre che bel maglione perché è un sacco colorato e effettivamente io ho un sacco di roba beige nera soprattutto beige o al massimo rosa però colorato c'ho poco tra l'altro è caldissimo quindi io di darlo via non c'ho voglia ci avrà 10 anni 15 anni sto maglione era di terranova però questo me lo tengo allora sti cosi in teoria mi piacciono un sacco su quei cosi che ti metti così sulle spalle in pratica questo c'ha a parte il colore che è troppo panna in più si è bucato quindi nonostante mi piaci senza pietà io ti cestino ecco stessa cosa per questo sto coso ce l'ho da 100 anni veramente da 100 anni penso che tra l'altro me l'abbia pure dato mia madre da qualcuno che gliel'ha dato quindi non manco comprato è una cosa inutile cioè tu praticamente sto coso te lo metti così a che serve in se sa cioè c'è una manica qua una manica qua ti avanza tutto questo qua e fa così a che serve a niente e io continuo a tenerlo perché è nuovo mi dispiace ce l'avrò messo una volta ciao questo mi piace posso dire che questo potrebbe essere comodo anche per la crociera allora in tiriare in vestito vedete che è lungo ci potresti mettere tipo i leggings io non mi vesto mai così effettivamente però tipo cardigan aperto invece di portare il giacchetto questo potrebbe essere un'idea da portare in crociera teniamolo questo è il fratello di quello sempre con le maniche tipo così che si mette sopra però questo mi piace il colore quindi io questo lo tengo non è che io abbia risolto molto eh posso dirlo questo item me l'avete visto un sacco di volte addosso è sempre uno di sti cosi senza maniche che si mettono sopra questo lo tengo assolutamente me l'ha regalato la mia amica ma è bellissimo maglione nero triste e lo dico avendo addosso un maglione nero tra l'altro però maglione nero te lo tieni capito perché comunque nero ce ne ho pochi neri così teniamolo questo maglione c'ha cent'anni ma ha dato mi madre cent'anni fa e io ancora ce l'ho però è oro e è un colore che non c'ho nient'altro di panna e oro c'ha tipo i bordini proprio d'oro teniamolo sta qua da una vita insomma questo pure quanto è carino queste cose quando avevo i capelli colorati me le mettevo un sacco di più adesso questi capelli un po' da vecchietta biondiccio spento sta cosa così non me li sto più mettendo ma visto che ci potrebbe essere un grande cambiamento di look a breve io questi li tengo da quando ho questi capelli normali mi sento normale e io non sono normale si vede che non sono normale ecco e quindi devo ritornare a quella che ero un altro maglione ok questo però lo metto spesso perché è super caldo c'ha sto collo gigante questo me l'avete visto spessissimo e resta qui questo l'avevo comprato da poco al mercato è carino non so ancora quando e come lo metterò ma è carino e questo pure chiara passione il gilet me lo avete mai visto? no è sempre sto coso smanicato non ho tre mai messi? no poi qui ci sono dei pantalocini che non c'entrano niente un pigiama che non c'entra niente delle calze che non c'entrano niente sto coso orribile che però io ho portato al lavoro e lì lo riporterò domani che è praticamente un maglioncino da mettere sopra che se fa freddo se si rompono i termosifoni c'è qualcosa da mettere sopra quindi questo via lo porto al lavoro lo lascio al lavoro eccolo questo è quello rosa che ho preso da Zuiki l'altro giorno uguale a quello nero questi qui sono in offerta 10 euro c'hanno anche altre cose sempre di questa collezione Barbie Zuiki e quindi l'ho preso l'altro giorno è nuovo me lo porto sicuramente in crociera questa è una felpa di Natale che è rimasta fuori dalle cose di Natale la mia collezione di maglioni di Natale l'ho già messa sotto vuoto e messa sotto a letto perché ne ho veramente tantissimi lo sapete e possono stare nell'armadio cioè possono stare nell'armadio solo nel mese di Natale quando me li metto poi ciao questo maglione è un maglione di H&M che avrà almeno almeno 20 anni forse di più e proprio niente questo lo tengo ma perché non ha senso cioè così non ha senso non lo metto da solo ma è buono da mettere sotto i maglioni quando fa veramente freddo abbiamo finito i maglioni sono rimaste magliette e cose così quindi comincio a mettere abbiamo finito i maglioni col cavolo è che sotto ce ne stanno altri ammucchiati tipo questo che portavo nel video dell'altro giorno e mia madre per tutto il pomeriggio mi ha detto sei uscita un pigiama a me piace tanto non lo voglio dare via mi piace è super carino poi è caldo non voglio dare via comunque lì ci stanno un sacco di maglioni ammucchiati aspettate un attimo metto a posto e ve ne faccio vedere qualcun altro togliendo sta mucchia di roba dal secondo piano qui dal secondo piano ho trovato degli altri maglioni che erano piegati lì dietro e io non li ho mai visti quest'anno credo sono nuovi praticamente cioè non li ho proprio mai visti ah ok va bene gli altri li ho piegati qua quindi quelli li metterò lì e i maglioni ce li abbiamo ecco qua ho trovato anche questo che è tutto rovinato però è caldo mi piace ho pagato 4 euro tanto tempo fa mi piace lo teniamo ho trovato questo bianco che invece è bellissimo a collo alto vabbè allora adesso sistemo quelli là e continuiamo io le felpe non ve le ho fatte neanche vedere perché alla fine sono sempre le stesse nell'altro video già le avevamo viste e praticamente sul 70% c'è scritto Barbie tipo Barbie mini pony Barbie 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 Stitch Friends Barbie Barbie tutta nera quindi manco ve lo fate idem le magliette perché so quasi tutte le Barbie cioè proprio parte qualcuna la gran parte so le Barbie quindi vabbè inutile vi faccio rivedere di nuovo però allora maglioni canotte felpe che credo che mi porterò in crociera cioè voglio essere la ragazza con la felpa di Barbie anche perché c'è un sacco non me ne metto mai sono abbastanza leggere per andare secondo me in crociera perciò questa c'è la zip questa c'è la zip sono anche comode quindi penso che alcune di queste verranno con me maglie e maniche corte me ne porterò qualcuna sicuramente adesso devo passare ai jeans ma voi pensate che sia finita qua invece no perché qua è rimasto tutto sto casino allora questi sono i body anche questi l'avete visti sempre in un sacco di video quindi vabbè qui ci stanno tutti i body un po' le magliette più particolari quelle un po' da sera diciamo quindi le metto tutte qui dentro non so mi viene un po' da piangere nel senso che non vedo guardate lì sotto quelli sono tutti vestiti praticamente c'è qualche felpa altre felpe che non uso felpe che in teoria sono quelle per dentro casa e poi quelli sono tutti tutti vestiti che non lo so cioè per far quel video dove scegliamo i vestiti da portare in crociera ci vorrà un mese e vabbè un mese che non abbiamo e vabbè dai continuo ci vediamo tra poco comunque vi vorrei far vedere che io ho una scatola piena di gonne lunghe numero di volte in cui ho messo le gonne quest'anno forse due c'è leopardata di un altro tono di leopardato con i fiori oro con i fiori questo è il vestito che ho trovato nella box poi abbiamo ecco questa forse è l'unica che mi sono messa a fiori e c'era pure una leopardata con tulle gonne lunghe va bene e poi c'ho i pantaloncini de pelle messi mai però devo dire che la situazione sta migliorando queste canotte che prima ho detto canotte è perché io sono anziana e sotto le maglie l'inverno ci metto le canottiere dei cotone cioè per sta calda se no più freddo non ce so sta senza canottiera l'inverno e quindi ce n'ho tipo un sacco quasi tutte tipo ho all'outlet dei intimissimi calzedoni e tezenis oppure da primark tipo questa che c'ho ancora il cartellino però le canotte sono indispensabili quindi qui stanno bene vabbè la situazione sta migliorando voglio arrivare ai jeans ai pantaloni ed ecco qua allora qui ci sono le magliette quelle strane che si possono piegare tipo queste quindi roba dei paillettes tutte cose strane lì dietro ci sono body e crop top tipo i body le barbie le magliette quelle proprio corte corte anche per la palestra che non userò mai perfetto passiamo ai pantaloni ragazzi ah e qui è avanzata sta scatola dei maglie a maniche lunghe tipo termiche tipo dei materiali che si mettono sotto ai maglioni quindi non è che ci esci così però c'ho qualche maglioncino sottile a collo alto queste sono comode non le do via non so dove metterle però sono stufa di fare questa cosa odio sistemare l'armadio e questa è ancora la montagna di pantaloni e io vi giuro che mi metto sempre gli stessi jeans cioè guardate mi metto sempre gli stessi non ce la faccio questi ve li faccio un po' vedere non starò qui a provarli perché non voglio sapere quali mi entrano e quali no c'è un paio che è il mio pantalone di riferimento cioè nel senso che quando mi entra quello vuol dire che sono nella mia forma migliore adesso se lo trovo lo faccio vedere allora questo jeans preso non so dove forse su shin no non credo però super comodo perché non è proprio un jeans è quasi natuta e io credo che questo lo tengo perché perché ci potrei anche potrei anche pensare di portarmelo in crociera ho fatto cadere qualcosa non so che cosa va bene poi questi li ho messi tantissimo adesso non l'ho più è tanto che non li metto l'ho presi a 50 centesimi all'outlet credo che mi entrino sì senza problemi però forse sono più estivi cioè sta fantasia così sia questi che questi che quelli rosa sono un paio rosa sono più estivi cioè io li metterei dietro perché in questo momento sinceramente non li metto poi questi sono i miei preferiti credo tra l'altro adesso mi stanno anche meglio perché prima mi stavano così adesso invece un pochino si arricciano e questi me li vedete sempre perché sono i miei jeans larghi comodi e li amo poi sempre della stessa famiglia ci abbiamo pure questi i jeans arricciati in vita sono la vita perché sono comodi si allargano quindi non mi stringono con un paio di jeans normali questi non li mettevo più da un po' perché non mi entravano cioè mi entravano ma mi stavano perché non potevo respirare e invece adesso ci respiro avanza pure un pezzettino per infilarci un dito quindi è bellissima questa sensazione quindi questi li teniamo jeans neri classici niente di che tutti un po' larghi non ho tanti jeans stretti questo il mio preferito forse quello che sfrutto di più vita un po' alta tasche asimmetriche preso sushi se non ricordo male sì però è dazzi eccolo questo è super comodo mega largo bellissimo questo lo amo lo metto spesso se ci metti un tacchetto diventa anche mezzo elegante non mi piacciono forse adesso mi entrano allora non mi piacciono perché a parte hanno dieci anni non li ho più messi perché mi stavano veramente risicati credo che adesso mi potrebbero entrare non li do via solo perché io di jeans stretti sulla gamba ce n'ho veramente pochi e se voglio mettere uno stivale con il pantalone dentro praticamente ce n'ho solo tipo due paia tre paia forse quindi li tengo ma non li metto mai quindi che cavolo li tengo a fare non lo so che sono questi sono i jeans di Hello Kitty anche questi sono stretti questi li avevo presi da poco in una collaborazione non mi ricordo con chi e sono stretti e sono chiari visto che gli altri sono stretti ma sono scuri tra l'altro questi sono elasticizzati evviva quindi questi li teniamo perché so quei jeans che pure se non te li metti spesso però ce li dovresti avere questi sono di una comodità sono larghini ma cioè li amo sono di questa marca qua me li avevano mandati per una collaborazione un sacco di tempo fa ma so uno dei miei jeans preferiti cioè un po' calati forse adesso mi stanno anche un po' grandini però rimedieremo con una cinta meglio grandini che stretti non li mettevo da un sacco di tempo ma perché non li trovavo più semplice allora qui che c'è questi li avevo presi su skin e mi sembra me li ero pure comprati da sola devo dire che forse sono un pelino troppo larghi in questo momento li metterei più tra le cose estive perché adesso moglione grosso jeans largo invece tra le cose estive jeans largo maglia corta forse meglio quindi questi li metto tra questi estivi è uguale questo che sono molto simili ne ho un paio belli così di questo lavaggio chiaro però più stretti però credo di averli messi via perché non mi entravano cioè erano proprio no a malapena si chiudevano però adesso che ho perso centimetri importanti intorno alla vita forse mi entrano non li ho mai messi quelli perché li avevo presi in un video collaborazione e li ho mai messi comunque questi erano tutti i miei sì col cavolo magari questi ho presi questi sono uguali a quell'altri questi sono delle zenith no dei calzedoni addirittura ma infatti sono tipo leggings più che jeans ah no beh non so uguali questi sono più celesti forse non ho mai messi questi dei mamassò a poire servono dei jeans a poire chiara forse no ah questi belli questi belli dei tezenis sempre perché questi affari li prendo tutti a 3-4 euro quando vado all'outlet quando ci stanno le super offerte ecco questi per esempio mi piacciono non mi sono mai messi quest'anno perché ne li trovavo ma li mettiamo qua così li ho trovati poi i jeans mi sembrano finiti ancora ridillo questi pure hanno elastico in vita non so se si è capito ma compratevi i jeans con l'elastico in vita perché so jeans ma sembra di non avere i jeans poi c'abbiamo i pantaloni allora questi li ho ritrovati tipo di quando ero giovane però effettivamente sono carini li ho messi nell'armadio e poi non me li sono mai messi perché pesco sempre le stesse cose però questi li faccio un mucchio pantaloni questa tuta è oscena ecco è caduta capito per quanto è oscena è oscena cioè è brutta è proprio una brutta tuta mi fa pure già non c'ho il culo questa mi fa pure il culo piatto però è nuova praticamente potrei metterla per dentro casa anche voi avete dei mucchi di roba per dentro casa che io si insieme a questo qua che è tipo quelle cose tipo pigiama americano messo due volte poi finito dietro l'armadio perso per sempre questa è una tuta beige ma mi metto io tutte queste tute? no mi metto solo questa questa presa su cider bellissima questa me la metto è zozza è zozza sì è zozza mettiamo a lavare ok questa mettiamo a lavare però bella questa tuta di sinzai che se l'è comprata pure Caterina quando l'ha vista perché è bellissima è una tuta ma in realtà è un pantalone però è un pantalone di tuta a parte pesare 100 kg è una delle cose più comode che io abbia nell'armadio perché è una tuta ma se ci metti tipo una giacca sopra diventa elegante questa è bellissima questa la metterei nella mucchia dei pantaloni comodi poi questi stavano dentro la mystery box d'abbigliamento che ho trovato mi sono ottenuti perché sono super comodi mi sono pure messi un paio di volte super carini quindi questi mettiamo nella mucchia dei pantaloni questi l'avevo persi l'altro giorno li cercavo non li ho trovati poi ero scapocciato belli questi larghi sempre presi su sinzai sono giga larghissimi molto comodi devo dire questi li teniamo assolutamente non ho tolto nessun pantalone in realtà fino adesso mi sembra brava questo è il modo giusto di fare cose questi sono comodissimi ma mi si sono rotti devo ricucire il gancettino che li chiude anzi me lo faccio perché questi mi sa che me li voglio portare in crociera che sono super comodi proprio per andare in giro anche durante la giornata poi un'altra tuta come se fossi una persona sportiva fa molto ride sta cosa poi un leggings di finta pelle no pelle plastica un'altra tuta non si va giù con tutte queste tute fa ride sta cosa vabbè un'altra tuta dai qualcuno la levo un'altra tuta però questa è di Barbie guardate c'è ancora il cartellino però almeno l'ho pagata poco manco troppo 12,99 stiamo a poter portare in crociera c'è pure la felpa uguale poi un'altra tuta questa era di Luca questa è la tuta del Perugia del Frankie Garage però devo dire che è molto comoda quindi non mi sento di darla via però effettivamente ma che ce faccio vabbè cioè se lei vi è una tuta non serve a niente questa è un'altra tuta dai questa la levo veramente non l'ho mai messa forse c'è una palestra duort dai questa la levo basta qualcosa devo togliere un'altra tuta questa però è è de felpa dentro cioè no de felpa de garza dentro quindi è più leggera qui ce ne stanno altre due tipo scamosciatine ma anche le tiro fuori bello questo ma sempre strupicciato in un momento perché de pulembier bello solo che è sempre strupicciato se fanno i pieghi se lo tieni piegato e poi io non ho voglia di stirarlo quindi poi alla fine resta là così abbandonato questi invece li amo sono quelli che si stringono sulla caviglia con l'accetto mi si ha presi su scinno sì questi sono bellissimi super comodi li teniamo questi pantaloni beige ho questo è quello che vi dicevo nel wiki vlog della settimana scorsa questi pantaloni sono molto belli sono così e sono super larghi quasi che sembra una gonna ora con il fatto che sono dimagrita mi si chiudono prima non mi si chiudevano nonostante sono una M però boh saranno fatti male non mi si chiudevano adesso si chiudono ma poi non posso respirare quindi è inutile che li tengo per quanto io possa dimagrire non ci entrerò mai qua dentro quanto altro posso dimagrire ecco lì jeans rosa improbabili questi li mettiamo via poi leggings scolorito e pantalone leopard strano questi sono stretti però mettiamo il mucchio degli stretti basta c'è una tuta di plastica di sacco dell'immondizia però questa mi piace tanto quindi non la do via ma sono messa due volte però basta sono finiti 300 tute 400 jeans voi metto a posto questi leggings li mettiamo qui tutte queste sono calze leggings le nuove calze quindi tutte cose e stanno su questo carlino super comodo che avevo preso su Temu insieme alle borse piccoline sia qui che qui che qui un po' troppe borse chiaramente di qua non tocco niente perché in realtà avevo sistemato ed è rimasto in ordine semplicemente perché queste cose non le metto per non distruggere l'ordine qui ci sono le nuove giacche dei cappottini tutte le mie camice che non uso altre giacche 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 sembro Luca e sopra ci sono i cappotti i cappotti che mi metto quasi mai perché poi quelli che mi metto ho giù perché se stanno lassù non li metto chiaramente però diciamo che questa parte è sufficientemente ordinata da portarmi a fare questo gesto tecnico e non voglio vedere oltre perfetto vedi molto meglio invece di qua devo dire che sono molto soddisfatta cioè rispetto a come era prima ora lì sotto è così e rimarrà così ma non ne voglio sapere niente è lì sopra uguale ma in realtà vedete ci sono i maglioni di natale ci sono un po' di robe sottovuoto lì dentro estive e qualcosa lì c'è una giacca bellissima della no North Face si è North Face vabbè non mi ricordo comunque è nonna papiri me l'ha regalata Luca all'inizio proprio della nostra storia e si è rotta la zip però è una zip particolare devo portarla ad aggiustare devo trovare qualcuno che me l'aggiusta perché è veramente un peccato mortale che sia rotta quindi ce l'ho lassù non la do via perché la voglio aggiustare però effettivamente sta là niente io mi ritengo molto soddisfatta l'unica cosa che mi è avanzata è questa scatola con le maglie termiche le maglie per sotto diciamo che non so veramente dove mettere forse la metto qua sotto questa ce l'appoggio sopra potrebbe andare bene sono soddisfatta allora non ho tolto praticamente niente cioè ho tolto un pantalone una cosa da portare in ufficio e tre maglioni quattro brava Chiara così si fa questo è il modo giusto di sbagliare complimenti Chiara complimenti oh vabbè non lo so comunque c'è la roba centrata ora so già che devo togliere qualcosa altro perché ho delle cose nuove che ci devo ancora fare il video e quindi sicuramente dovrò togliere qualcos'altro ma lì c'è un buco lì c'è un buco signori c'è un buco da sfruttare quindi attenzione no però sono cose che si sono pantaloni quelli che devo mettere dentro sono completi sono tre cose sono eleganti quindi vanno sotto tra tutto quel mucchio dei vestiti anche i vestiti toccherà toglierne qualcuno si chiude no non si chiude cioè si chiude meglio di prima ma il problema è sotto però vabbè raga apprezzate impegno per favore eh guardate che differenza tra prima e dopo sono stata brava però eh sembra un negozio mercatino dell'usato incasinato è proprio un negozio cioè almeno adesso è tutto se voglio un maione so dove prenderlo quanto durerà questo è un altro discorso poco probabilmente perché la prima volta che vado di corsa ne tiro fuori uno e cascano tutti li lascio così però vabbè o io meglio di così non so che faccio ma che devo fare ho spazi e questi i vestiti sono tanti e non ci posso fare niente potevo togliere più cose sì grazie ripetetemelo pure le leverò le leverò adesso adesso che le vedo ci ragiono un pochino e qualcosa levo quindi da questo video motivazionale dove sistemo il mio armadio alla bene e meglio è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao